Allora, motore 1.4, 4 cilindri, booster jet con sistema mild hybrid 48V e selettore di trazione nella versione all grip 4x4, c'è. Allora, schermo touch con modalità Apple CarPlay e Android Auto, c'è. Sedili anteriori riscaldabili, ci sono. Telecamera 360 gradi 3D, c'è. Assistente al traffico travessale posteriore, c'è. Avvertimento, ondeggiamento di corsia e monitoraggio della stanchezza, anche questo c'è. Tempomat con funzione automatica start e stop, c'è. Assistenza alla partenza e salita, c'è. Assistente angolo morto, c'è anche questo. E costi di gestione in poste basse? Ci sono, bene. Prezzo d'acquisto vantaggioso? C'è. Perfetto. Ma perché non venite a provarla? Venite a provarla dalla Santa Automobile di Giubiasco. Ne vale veramente la pena.